ultima serie ragazzi ma questo secondo voi è allenarmi qualche bounce, qualche gioco dobbiamo preparare e voi siete pronti per domenica 30 maggio alle ore 15.30 in diretta sulla pagina facebook AC San Marco e Scalea per la festa degli incontri vi aspettiamo! e di te e di noi la vita va oltre i progetti che fai è il più grande del buio e di ogni ferita è lo stupore alla fine di una strada in sanità